Immergiti nel torbido mondo di Endless Love, la telenovela turca che sta incollando alla tv un numero impressionante di spettatori italiani. Scopriamo insieme quali nuove sorprese ci riserva il triangolo amoroso tra Emir, Nyan e Galip. Non si può negare che Endless Love stia diventando una droga per gli appassionati delle serie turche. Con una trama piena di colpi di scena che tengono tutti con il fiato sospeso, ultimamente i fan aspettano con impazienza di scoprire i nuovi intrighi che avvolgono i loro personaggi preferiti su Canale 5. Tra i vari drammi che si sono sviluppati negli ultimi episodi, c'è stata questa storia assurda dell'ossessione di Emir per Nyan. Pare che stia facendo impazzire anche Galip, che nel tentativo di metterci una pezza, decide di lasciare Emir a mani vuote, strappandogli ogni suo possesso. A questo punto, chissà che sarà del nostro Emir, un ginepraio sentimentale e di affari. Arriviamo poi alla vicenda di Galip che si mette in testa di dare a Asu le quote della sua azienda, prima nelle grinfie di Emir. Ma attenti a non fare passi falsi, se Asu decide di accettare, si ritroverebbe catapultata in mezzo a una rete di lotte per il potere e vendette. Cosa sceglierà di fare? Lo scopriremo nelle prossime puntate. E che dire della situazione di Asu che deve decidere se fare sapere o no al fratello di questa proposta? Ogni minima decisione sembra portare a conseguenze gigantesche, rendendo la storia di Endless Love una bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento, tenendo tutti noi sulle spine. Cosa bolle in pentola per i prossimi episodi? Ma in mano che la storia si complica, l'attesa per i prossimi episodi diventa più elettrizzante. Con la crescita delle tensioni e le complicazioni affettive, ci ritroviamo tutti a chiederci cosa combineranno Galip e Asu e come impatteranno sulle altre relazioni. Insomma, è chiaro che ci sono ancora tantissimi colpi di scena alle porte. La serie, infatti, non smette di stupire e di tenere incollati allo schermo i telespettatori, grazie ai suoi intrighi, ai drammi e ai sentimenti spesso contrastanti. E non c'è altro da fare che sintonizzarsi su Canale 5, per non perdere nemmeno un attimo delle vicissitudini di questi personaggi che tanto ci hanno fatto innamorare. Endless Love, prosegue nel suo cammino, lasciandoci con una pletora di emozioni e un mare di domande sul futuro dei protagonisti. È una vera e propria esplorazione delle relazioni umane, degli amori complicati e di come le decisioni possano cambiare irrevocabilmente le nostre vite. E voi da che parte state? Preferite seguire le astute mosse di Nian, o siete più affascinati dalle macchinazioni di Emir? Le passioni sono come i venti, necessari a dar movimento a tutto, ma pericolose quando aumentano di intensità, così scriveva Voltaire. La trama di Endless Love sembra incarnare perfettamente questa riflessione, mostrando come l'ossessione possa portare a conseguenze devastanti. L'azione di Gallip, determinato a punire Emir spogliandolo dei suoi beni, è un chiaro esempio di come il desiderio di controllo possa trasformarsi in una vendetta personale che supera i confini della ragionevolezza. Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla natura umana, e sulle dinamiche di potere all'interno delle relazioni familiari e amorose. La decisione di Asu di accettare le quote aziendali, rivelando o meno la situazione al fratello, aggiunge ulteriore complessità al dramma, sottolineando come le scelte individuali possano influenzare il destino di molti. In Endless Love, ogni personaggio sembra navigare in un mare tempestoso di emozioni, dove l'amore e l'odio si mescolano, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa su questa scacchiera emotiva.